Bene ragazzi bentornati qui su un nuovo video con il signor Klaus Un video sul tapirulan Piano piano li stiamo portando tutti sul tapirulan Si piano piano si giocherà lui contro me e contro Daryl Faremo un tempo per uno che è Daryl Quindi lui probabilmente non scenderà mai dal tapirulan Ogni goal è un uno e mezzo in più Facciamo due Facciamo due E si parte direttamente da tre Quindi Se fa una bella sudata Facciamo che una scusa per farlo correre Si Ok Se vi piace questo video per vedere il prossimo video Arriviamo a 2500 like E lo facciamo con un altro youtuber E' vero che c'è stato E' modificato tu per me E' stato visto Vai vatti spiegati Mannamia Subito No io non ci so poco Grande Vai Cozze Mario Cozze 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 Pappacu Oh bellissima Vale 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 Vandoschile 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 Paio Ma che sono arrivato male 1 a 0 Quindi si fa a 3 e mezzo Vai 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 Come era tu No era un' e mezzo Come 2 e 3 e mezzo Che più 2 ? Zitto 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 Frank Ribéry a lottavo minuto del primo tempo la palla del levandoski levandoski, levandoski il tiro, dai come cazzo fai a cagato il tiro del genere fatti bene mamma mia robin, robin, robin si va a 5 e mezzo piano piano 5 e mezzo no no ce la fai frax è arrivato a 10 dai su ma che ce la fai comincia a muovere comincia a muovere oh oh chissà ronaldo sbaglia ho la mente 1-2 bellissimo per levandoski levandoski ci arriva ancora levandoski 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 il tiro al giro non va robin sempre su un mancino robin robin cazzo non so pensare a cuore non so pensare a cuore mi ricordi di testa vado a normale ronaldo se mi va si disinteressa del pallone c'è una rapiglia robin 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 ma come ho fatto a far buono io so guardavo a te robin cazzo cazzo ce la faccio ancora robin robin avanza robin robin no cosi no ancora non riesco a giocare non riesco a giocare mi senti io troffesiva robin no cazzo cazzo e no cazzo 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 guarda che ti conviate le saliva perchè quando c'è l'abitudine vai 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 lei va il gole devi corri devi corri ma si spiega il gole vai ti spiega ti spiega il gole oh si non riesco che ve lo rompi non riesco a non so pure le cori su sto coso non so pure le cori non so pure le cori non so pure le cori di cori c'è un po' con questi cosi no corri come se fosse un po' o porca puttana così guarda c'è così guarda guarda che infame vai 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 sali 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 sul tapirola 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 cos'è oddio e fa 10 vabbè bloccagliela a 4 dai no no almeno qua almeno qua così allora visto che lui è una pippa io lo blocchiamo a 4 e mezzo perchè sta veramente sta per morire se non si ammazza pensate 4 a 0 dovrebbe sta 10 però vabbè 3 a 0 e guarda come cazzo si abbassa questo coso 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 cazzo stai a andare ahahah noyer 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 oh cazzo ha fatto una stronzata no oh 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 vai 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 oh oh dai 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 vabbè diciamo gli abbiamo fatto fa ma chi gli abbiamo fatto fa eh vai Mario gozze 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 avanza gozze avanza ancora gozze le zamanda e mezzo per levandoschi le� Sonic le**** le1 winsami ception cazzo elisa le kantari erase 6 6 5 50 si orando 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 ronaldo ooooh mannaggia non no 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 ma chi non le faccio per qua lei fa un mezzo le fa le fa ma via Lewandowski 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 ma hai spinto ma hai spinto ma non è vero fallo vai però vi glute noi vabbiamo ma vero ecco il bayer aggressivo vuole vincere non gozze gozze avanza gozze.. fa una cazzata e erano gli accasigli aspettati grazie a te cosa che tanzia appare la sera sera è finita scusa chi è che ha fatto i gol scusa 5 a 2 chi è che ha carriato chi è che ha fatto i 5 gol chi è che ha fatto i 5 gol chi è che l'ha fatto i mateus quindi like per lui allora da un claus e nano e da noi che siamo bene perchè al momento 5 a 2 ci vediamo al prossimo la cellule 1500 mi piace non ti si vede non ti si vede ti si vede a me la faccia dai zitto bella ciao